E' andata in scena sabato sera alle 20 in piazza Orologio a Clusone la prima proiezione del videomapping una torre di luce che ha emozionato tutti i presenti. La torre dell'orologio Fanzago per una settimana si accenderà grazie a uno spettacolo di luci e animazioni tridimensionali che continueranno fino a domenica 9 ottobre. Il videomapping è stato realizzato in occasione del festival musicale internazionale Musica Mirabilis, dedicato al grande compositore clusonesi Giovanni Legrenzi. Finanziato da un contributo di Regione Lombardia, il progetto ha permesso anche l'acquisto del proiettore che resterà di proprietà del comune. Coinvolti Promoserio e Visit Clusone, l'animazione è a cura di Adriano Merigo. In occasione del festival Musica Mirabilis che partirà l'8 ottobre, l'amministrazione del comune di Clusone ha deciso di dare uno spazio importante anche sulla facciata della torre dell'orologio. Grazie a un finanziamento di Regione Lombardia siamo riusciti a realizzare quest'opera di videomapping che ha un'installazione all'interno del quale ci saranno dei minuti dedicati proprio alla figura di Giovanni Legrenzi. Per sapere gli orari di proiezione è sufficiente collegarsi al sito Visit Clusone nella sezione eventi e si troveranno le date e gli orari in cui sarà possibile godere del videomapping. Le proiezioni si terranno tutte le sere a partire dalle ore 20 ogni 15 minuti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.